Avete certamente notato che ci sono persone sui social, in ogni social, in ogni ambito, che non sanno assolutamente nulla dell'argomento di cui si parla, ma credono di sapere tutto, non solo. Non sono solo supponenti, ma sono altamente altezzose, sono persone con un atteggiamento quasi arrogante. Ora, quello che io ho appena raccontato, ed è un'esperienza che abbiamo fatto tutti, è un fenomeno psicologico noto, noto con il nome di Dunning Kruger, cercatelo, Dunning Kruger, cercatelo su Wikipedia. È un fenomeno di esperienza cognitiva in sostanza, e che cos'è? Una dissonanza appunto cognitiva in base alla quale persone che non sanno assolutamente nulla credono di sapere tutto di quell'argomento, questo le rende supponenti e quindi anche arroganti. È un fenomeno piuttosto curioso che nella vita reale si riscontra, ma nella vita reale si è anche in grado di arginare in modo piuttosto semplice, mentre invece sul web è molto più complicato. Vi è anche il fenomeno opposto, è sempre lo stesso fenomeno ma l'atteggiamento opposto, quindi una persona che sa tante cose e sa tutto di un determinato argomento, ma che crede che gli altri siano esattamente come lui, ovvero all'altezza, e quindi ha paura e poca fiducia in se stesso e ha paura nel dimostrare, nel raccontare le proprie percezioni o impressioni. Questi due fenomeni sono le due facce della stessa medaglia sostanzialmente. Da una parte si generano degli arroganti che non sanno assolutamente nulla, dall'altra parte si generano delle persone poco sicure di sé pur sapendo tante cose. Da una parte c'è una sbagliata cognizione di se stessi, cioè io credo di saper tutto, anche se non so niente, ma non posso saperlo perché non so niente, quindi sparo a zero. Dall'altra parte è una sbagliata valutazione degli altri, non di me stesso, cioè io penso che gli altri sappiano le cose quanto me e quindi sto molto attento e non sono sicuro di me stesso. Nel secondo caso è un lavoro che dobbiamo fare su di noi, ovviamente. Nel primo caso noi abbiamo anche una certa responsabilità da un certo punto di vista. Se io mi trovo a parlare sui social con qualcuno che non sa nulla ed impettito si comporta con me come se sapesse tutto come se fosse uno scienziato, ho anche la responsabilità di fornirgli delle informazioni che lui possa capire, perché questo errore cognitivo può essere, passatemi il termine forte, curato attraverso la consapevolezza. Se noi siamo in grado di instillare in queste persone il dubbio del fatto che non sappiano tutto come credono, sono persone che tendono a cambiare, tendono a cambiare e ad equilibrarsi. Quindi di fatto tutti noi non abbiamo il diritto di fare i troll e di essere arroganti con individui di questo tipo perché è un errore di percezione che loro fanno inconsapevolmente. Quindi abbiamo il dovere di essere in qualche modo coloro che provano a guidarli. È chiaro che ci sono certi casi in cui non è possibile fare assolutamente nulla. Poco tempo fa leggevo su Facebook un amico ha scritto una frase che mi ha sconcertato per quanto è fulgida e strabiliante. Mi ha detto parlare con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Tu puoi essere il campione del mondo, ma lui rovescerà le pedine, cagherà sulla scacchiera e a un certo punto se ne andrà impettito come se avesse vinto lui. In quel caso non abbiamo assolutamente nulla da fare. Alziamo le mani e ce ne andiamo. Rock and roll!